Siamo arrivati al momento di vedere entrare le prime due Huracan, quella di Daniel Zampieri che andrà a posizionare la sua Huracan del team Antonelli Motorsport proprio nel ponte esterno, ponte lato tribune. Vedete questo è il tracciato di cui vi stiamo parlando, questi 632 metri e i due ponti che sono distanti tra loro, uno opposto all'altro, uno lato tribune dove si andrà a piazzare la vettura di Zampieri, mentre Simone Pellegrinelli, il pilota Bergamasco, porterà la sua Lamborghini lato interno. Il lato interno sarà proprio vicinissimo a noi, alla postazione da dove vi stiamo parlando, comunque la palazzina è quella che fa anche da paddock. Bene, tutto è ok, siamo pronti, ad ora vedo anche i commissari che sono in quella zona, possono far entrare le vetture. Vediamo se danno l'ok definitivo, le due vetture sono già accese. Tutto questo ritardo lo recupereremo perché poi saremo in diretta.